e questa è come prepariamo noi l'insalata russa ovviamente per 6 persone con i nostri ingredienti e preparazione consigliata Ingredienti per 6 persone 250 grammi carote già precedentemente pelate 250 grammi di patate che siano già state pelate 250 grammi olio di arachide 125 grammi piselli verdi 125 grammi di cetriolini sottaceto 7 uova medie rallevati a terra Aceto di mele Senape Limone Sale quanto basta o secondo il gusto dei vostri commentali Preparazione ricetta di cucina insalata russa Iniziamo quindi la descrizione della preparazione della ricetta di cucina insalata russa Ovviamente si tratta di una ricetta che molto probabilmente già conoscerete In ogni modo noi la facciamo in questa maniera Insalata russa Prendete una pentola e cuocete a vapore piselli Carote e patate Quindi dovrete fare bollire due uova fino a quando le stesse non saranno diventate sode Al termine della cottura Eliminate il guscio e fatele raffreddare Quando le verdure si saranno intiepidite Riducete ad adini anche le uova sode E amalgamate delicatamente tutti gli ingredienti con un cucchiaino di olio Per terminare questo punto non vi rimane quindi che salare e pepare secondo il vostro gradimento Continuiamo quindi con la nostra ricetta di cucina insalata russa Dovrete ora mettere 5 tuorli di uova dentro una ciotola con un pizzico di sale e di pepe e sbatteteli Con una piccola frusta Non appena si saranno rotti versate l'olio lentamente Guccia a goccia Sull'uovo E ovviamente dovrete continuare a mescolare con la frusta Avendo premura di fare il più possibile un movimento regolare affinché l'uovo assorba l'olio Continuate con questo procedimento fino a quando non appena vedrete il composto comincerà ad addensarsi Versate il restante olio a filo e sbattete fino a che la maionese non si sarà addensata per bene Aggiungete anche il cucchiaino di aceto e qualche goccia di limone come consiglio personale perché veramente non guasta Mescolate le verdure e la maionese e servite il tutto Ovviamente da parte nostra buon appetito Difficoltà media Tempo di preparazione 30 minuti Tempo di cottura 15 minuti